cari amici benvenuti in questa nuova puntata di minecraft ed eccoci pronti per una nuova sfida lucky block questa è anche una fan made quindi temiamo il peggio aiuto è di qua che dobbiamo ma è tutta salita come già arriviamo su come 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 ho paura perché nel palline è tutta la levante cattive di tutti regole da nian Gian su serio su serio o di già o senso non basta nulla questa è possibile ogni volta che chi le dirà becca prima mi dovrà 1 a alla fine potete rompere i blocchi in mezzo alle vostre skin ah ok, possiamo far saltare tutto in aria una tragedia, salutati i componenti del team love rock'n'girl, crazy creeper baron, ferro giorgiolaboy jiffy, elixcraft blue orio e io caprencio e karen ciao, allora grazie mille gna 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 gna, ma non ha senso questa mappa è fatta solo da karen eterna, utile sto libro certo, fantastico direi che siamo pronti per cominciare, lucky block eterna by karen eterna e il libro mi fa schifo e lo butto siamo pronti a partire, tre due, due, una di io, una lucky block sul serio? sul serio io vado, non è che sto lì a grattare che è successo non è successo niente ok è un inizio è un inizio qua non ce la farò mai non ce la farò eh, sono già caduta di nuovo nel mezzo, un serio basta cadere via mi puoi aspettare almeno eh, ci sono le barriere che trollata cattiva uno si spaventa e ci sono le barriere ok con i nienti che sono caduti tutti di sotto spawn point uh, me le do, ne prendo una alla volta che non si sa mai prendiamo uno stack di blue things vai uh, oggetti oggetti eh, vabbè qualcuno me ne è rimasto ok, qua che me ne faccio? jump boost ah, devo saltare che saltare? che è quella saltare? do sono serio ok qua cosa c'è? 20 inizio ma che è fatto tu, scusa? che jump boost di che stai parlando? c'è un jump boost laggiù lo vedi? un jump boost sì, jump boost quella pietrina laggiù guarda devi saltare in elettro vai 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 sì bravissima non cadere però adesso e ora no non poteva capitare nel posto peggiore non poteva andare peggio di così come esco? spiegami ehi, ti passo un piccone se vuoi no davvero come dove esce? eh, a pugnetti su serio? sì che cosa bella che cosa bella cioè io sto veramente saltando verso questa faccia qualcosa mi dà? un altro jump boost per andare nooo guarda qui già l'ho visto l'ho visto allora devi andare fino a poi ovviamente avevo la carota nell'inventario perché mi ha dato le carote capito? devi andare verso la faccetta e cliccare sul coso e poi saltare che faccetta? quella faccetta laggiù occhio che sono le salte e l'altra stai facendo il parkour su serio al posto mio stanno facendo il parkour fagli cliccare una volta super mega mele ora la prendo cadrò nella lava sicuro cadrò c'hai fatta? l'hai preso? devi saltare dove? c'è i maiali davanti? nooo andate via andate via di là di là nooo non ha senso la lucky potion ho la lucky cow cosa fa la lucky cow? se tipo se cade va ok come sto andando la questione? sono morta no no la nuova dove la posso buttare perché la mia roba non muoia? nessuna parte di qua c'è un lato da cui non mi muore la roba se la lancio ce la faccio a evitare sono morta che la mia la mia bellissima roba basta non lo so pregamelo e di tanto sono bloccato qua per le prossime ore bene ci metto a morire risupermi quanto ci vuole è che così lei no ti vedo praticamente il tuo nickname no ma sono qui ancora e così fa la pena basta no so anche resistance oh no devo proprio devi 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 ok oh sì ti vedo ma sono ancora viva sono ancora viva come fai a essere ancora viva perché io muoio sempre ok basta basta ogni volta sì ma c'è un problema non posso andare avanti ok perché ogni volta che io prendo una diamine di di mela d'oro super potenziata deve succedere questo ma se invece io cosa dorei fare adesso esattamente oh ce l'ho fatta oh le mie mele sono ancora qua le ho recuperate che diamine stai facendo che dovevi fare io l'hai preso i blocchetti no l'hai preso i blocchetti e dove vai vici vici vieni non puoi mi dispiace devi buttarti giù e morire oh non voglio Bob 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 non è che posso buttare sulla tua cosa Bob cosa faccio ma che Bob 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 guarda faccio faccio il fetido sai cosa faccio guarda te lo butto sulla tua pista guarda ti immagini ti faccio ti faccio ti faccio buttare sulla tua pista che super trollata sarebbe Bob vieni qua che sono morta di poco volevo buttato sulla tua pista no che succede blocchi di smeraldo bello porzioni di buono schifida vediamo un po' strength strength night vision no effects no non posso dire no effects mentica no che oh no ho appena preso tutti i blocchettini super mega hiper lucky block che cosa sta scuola no no sì 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 ho distrutto no aspetta prima devo recuperare no sono morta con blocchettini ma di già sei morta è una meradona ma è possibile ma come ti è venuto in mente di fare una sfida su più piani no no sono caduta di nuovo non riesco a fare parkour e io sbaglio alla prima non puoi sbagliare guardate guardate mi spiegate come ci arrivo dove devo andare è possibile mamma mia allora proviamo a fare un po' così un po' scaletta scalo io scalo 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 la mamma mia montagna ok perfetto dimmi che no dimmi che no 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 hai squasciato l'angle dimmi che ci sono ancora i miei blocchetti dimmi che ci sono ancora i miei blocchetti me li ho ripresi meno male se non ho fregato come un catamarano folle no meno male che più una volta non ho preso la roba ciao amore ciao bellezza ciao che bello prendila una una bella meravigliare no stavolta più una volta no ringraziamo il fatto che più una volta non l'ho preso sei sotto di me spero tanto no no non mi fa esplodere i tipani ti butto l'acqua addosso ce la faccio buttare dimmi che ti cade l'acqua addosso dai sei troppo bello no ti dico di mettere l'acqua in blocco e l'addosso e ti metto il blocco beh devi cliccare sulla devo? si devi guardati lì guarda che succede se lo faccio? eh potrebbe andare bene potrebbe andare molto molto male male eh sì è andato male io sono viva ma perché resisti sempre? no non ho preso i blocchi mira come cavolo ci arrivo ma come diamine non ho preso i blocchi no come diamine dove fai a arrivare la stu scusate ok sto continuando corri corri no no c'è più niente cosa sta accadendo a morire in dolmonde non ce l'avevo appena fatta non avevo superato quello dove sei già non è che sei già alla fine ho disintegrato qualsiasi cosa ma anch'io guarda che schifo guarda lì vedo un po' guarda quanto ci vorrà tu sei già lì arrivata praticamente come faccio eh che c'è come si fa cosa 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 devi fare dovrei scendere ma non so come fare non posso attaccarmi come dovevi fare sono serio è saltato troppo vedo che c'è un common block cosa serviva quel common block io vorrei rompere con la key block ma lo so come fare suggerimenti ti ci lanci sopra non mi sembra una bella cosa no no è una bellissima idea è una bellissima scena vai 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 tranquilla non mi piace tranquilli tranquilli no no wishing well no wishing well no wishing well no stack di roba e non mi va bene perché non le puoi prendere una alla volta perché tanto crepo appunto appunto no non in quel senso voleva dire perché tanto lo so se ne prende uno solo sovravvivo ecco appunto e te non te ne serviranno dopo di 64 eh guarda che hai fatto un bel sfacello tu eh provi eh cavolini guarda 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 qua che schifo era come diavolo che schifo ho fatto un macello è fatto dove devo andare poi c'è c'è scusa guardami verso di me c'è qualcosa qui sotto ma in me chissà dove tu sia c'è un common block sotto di te sapevo io che manca il common block scusate abbiamo buggato tutto bisogna per forza darci è uno pressure plate almeno scusate pressure plate vai no sta stone pressure anch'io voglio un pressure plate stone pressure plate ok lo metto qua vai pam non questo è il posto sbagliato anche dovrai anche tu un pressure plate beh direi guardate no l'ho rotto vecchie si è rotto sei tragico così ecco ah da l'ender pirla tieni ti regalo le mie ender pirla ho già detto di te sono troppo buono come le faccio devi continuare lanciandole contro i blocchi in avanti adesso devi andare avanti di ender pirla capito ma di dove di dove di dove allora adesso vedi lì vedi lassù 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 vedi guarda in alto là in alto hai visto hai visto nooo ho sbagliato mi dispiace mira del cavolo dai che ti passo in vantaggio finalmente no tu no tu no 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 accidenti non sono accusato la cosa in fretta e poteva ancora scappare mi cadono le orecchie mi cadono sono clicchie e mi cadono le orecchie povero piccolo aiuto aiuto no non ho preso i blocchi cosa me ne fai no 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 cosa no 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 ti vedo che bevi caldo sei andata nella doccia hai fatto bene di questi tempi una buona doccia è quello che serve a volte iiii iiii ma basta cadermi le orecchie possibile cadono anche gli asini qui cade tutto bello allora vai qui si perfetto posso continuare ma più seria l'altra ma con semele deve essere una taglia ogni volta che faccio ho mezzo cuore gente mezzo mezzo io spero che tu ne abbia nulla aspetta ma se tu non hai non ho preso i blocchettini e neanche l'hander birra vabbè tanto che si è spawnato il mondo secondo me cosa vuol dire che si è spawnato ho paura che non che ma no lo so a me anche tutto è odio no perchè mi ha spawnato da te scusa no no tu no tu via ho paura non vedo niente no adesso sono dalla tua parte sei dalla mia parte perchè ci deve essere bagato così tanto che diavolo ci faccio la tua parte vabbè usa la mia parte e poi scendi dalla tua non lo so ma che schifo ma che la mia parte fa schifo è blu guardate per il nostro bene per il fatto che il video se no non si vede rimettiamo un'ora decente così se no non ne usciremo mai più ok per il nostro bene e per il bene tu no che cosa hai fatto io ho appena rimettato ma che cosa no la scheletra no la scheletra no a che cosa ti pensi oh ma mia 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 perchè c'è guarda c'è c'è il cupo guarda la tua gente io mi ho messo il time set e non si può no ti ho fatto sparare tutti i blocchettini no i blocchettini le ho presi sono morta ma come le ho presi si le ho prende per andare via scusa ma perchè c'è dei buchi qua perchè sono dal tuo lato che ne sai sono dal tuo ma è meglio c'è meno c'è i blocchettini ehi no è una grazia spiegamela perchè c'è anche il jump boost adesso perchè non ho cliccato loro per me scappa scappa no mi hanno spinto i tuoi bifidi amici qui ma sono dal tuo lato la mappa è no no non morite no il pressure plate oh c'è ancora c'è ancora il pressure plate posso ancora farcela userò il tuo lato che poi è buggato il tuo lato è buggato il tuo lato non va bene non ci sono non è che il tuo s'è molto meglio render pin no 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 lei hai riempito tutto di reni schifosi lei non si ero più via ma che cosa ma no mi buttano giù sotto loro ma perchè ci sono le diametri barriere le barriere quante ne avete messi un po' va bene a meno male sono le barriere l'unica cosa che ci va dalla follia prendiamone in mezzo stacca la volta ma di cosa di cervello qui c'è una barriera grazie forse no 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 sai che un jump booster è saltato sai si è che bello cioè si è fatto un creeper ma perchè mi ha sfumato a me dal tuo e a te dal mio scusa non mi torno si è saltato un creeper sopra e ha fatto kaboom eh si che bello no 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 sto prendendo tutti i blocchi blocchi? tu ho perso i jump booster io si non smetto di rompere la mia parte la parte non esiste più non è guarda mi metti in piggio da la mia parte no e vai via tu no no vai via non si è caduta vai no non prendono stacchi intero accidenti vai passi mognosa sono rimasti in ultimi due stacchi passi mognosa 16 pezzi sono abbastanza non di più non uno di più ok via 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 non c'è tempo da perdere non c'è un istante da miagolare ah ho salto troppo ho salto troppo ho già poca vita ho già poca vita voglio tornare dal mio no sono ancora vivo sono ancora vivo è ancora vivo è ancora vivo ecco eh nei pesi sono 16 alla volta nei pesi 24 nei pesi troppo ora muori ora muori spero di noci derby ok scheletri sei morta quasi ecco no salto troppo no un comment block incredibile sono ancora vivo io devo ah posso andare dal mio lato volendo grazie all'acqua l'acqua mi riporterà dal mio lato posso finire questa fan made e con questo dichiaro che questa sarà l'ultima fan made del lucky block che mai proveremo no perché io ho rotto dal lato io non ho idea di come dovevi fare no volevo andare dal lato giusto come ci arrivo adesso quello è il mio lato comunque vattene via non c'era il mio lato creeper creeper schifo creeper schifoso schifoso no 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 quanta gente senti io non so se ci voglio andare laggiù alla zona dove dobbiamo continuare perché c'è un affollamento senti almeno togliamo la game a 1 del 2 daylight lo mettiamo su perché sennò qui non finirà mai la notte no no lo spawn point io mi spawn pointo qui dove dove oh sono tornato qua questo si che lo spawn pointo oh benvenuti nella lucky block eterna 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 proprio eh ah posso vedere l'enderpeerla ah 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 io mi devo dare dell'enderpeerla perché tu non muori esattamente scusa com'è che sei in un posto dove non si spawnano i mob eh perché non lo spawn tutti special play ok ce l'ho dun 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 quella di special play passerò dai creeper romperò tutto tenta tenta dai sei quasi alla fine sta maledetta niri di scherzi si mi sei morta invece te e la tua testugine dai no ti ha cambiato lo spawn pointo ah ti l'hai messo qua ti l'hai messo anche te l'hai detto basta questa è la caccia all'el aaaaaaah 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 aaaaaah ti hanno dato anche il pillino già un boosto se sei contenta sfruttalo ecco all hell must die ecco vai vai no 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 ti aspetto qui per ucciderti mai basta cosa cosa c'entro io in tutto questo non è colpa mia io non volevo mi hanno costretto andiamo dai che il sole è solto possiamo ancora farcela l'hai vincita l'hai vincita è ancora sua fe sta buona no dai finiamo sta gara finiamola accidenti aaaaaah allora sono rimasti solamente i creep è tornato la notte e va bene lo stesso allora grazie molto gentile allora dai sbrughiamoci è la nostra ultima soluzione sono tornato in pista incredibile va bene dove sei tu dove diamo gli sencoli sempre a cambiarti lo spawn point sempre a farti la vita facile mamma mia no sei morta zubu 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 ok ma no questa è la mia zona no Toti dovete impirla dovete impirla usale usale saggiamente usale saggiamente oh oh no due no 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 lei l'avevo lanciata no il coin l'avevo lanciata l'avevo lanciata oh il mio desiderio è diventato realtà no è giusto sì eh sì se cosa hai usato il mio lato la vittoria più meritata è vero sono il mio lato rosa sì dopo esserti fatto lo spawn point però vabbè che discorso vabbè complimenti anche se ti sei facilitata la vita non mi sono facilitata non mi sarebbero stati ti sei spuntata nella mia zona ti sei spuntata vabbè scusa sulle ragnatele dai ma c'è un posto su cui stanno cadendo non ci credo sono qua vivo l'ultimo l'ultimo è ho finito sì in un modo dell'altro ho finito anch'io mamma mia che disgrazia questa è una mappa di disgrazia noi siamo due disgrazie che camminano allora vi ringraziamo tantissimo per averci seguito in questa puntata grazie Karen grazie Capren per aver creato questa grazie poco in realtà perché patate ho beccato grazie patate è arrostissimo ma non così arrostissimo è un po' tanto allora speriamo che sia piaciuta questa puntata sono delle cose più tragiche e cattive che abbiamo mai provato in vita nostra vi ringraziamo tantissimo stati con noi eee alla prossima con con NITENOV ciao